Il segno, il mensile della Diocesi di Milano. Per capire cosa succede nella Chiesa Ambrosiana e nel mondo. Approfondimenti, analisi, notizie utili. Da 57 anni, ogni mese, vicino a te, alla famiglia e alla tua comunità. In questo numero, il saluto al Cardinale Scola. Grazie, Vescovo Angelo. Dionigi Tettamanzi, testimone della gioia del Vangelo. Scuola, cambia per diventare davvero buona? Lo trovi in parrocchia e nelle più importanti librerie cattoliche, oppure puoi abbonarti. Seguici anche su www.chiesadimilano.it e iscrivendoti alla newsletter. Il segno, il mensile della Diocesi di Milano.